L'esperienza di viaggio e di movimento è sicuramente insita in Pininfarina e in Fuglio De Simoni e questo l'abbiamo rappresentato con delle linee che danno già il senso di movimento anche a imbarcazione ferma. L'insultato è sicuramente impressionante, due team complementari che si uniscono con schizze caratteristiche diverse creano sicuramente qualcosa di nuovo e rivoluzionario. Dopo aver sviluppato questo primo progetto insieme, un catamarano di produzione, a Monaco andremo a mostrare un progetto totalmente nuovo che andrà a rafforzare la collaborazione. Questo nuovo progetto rappresenta una nuova esperienza che si vuole dare all'armatore, i volumi, le forme non sono chiuse, si aprono verso l'ambiente esterno. C'è questa defraimentazione che è data dai ponti e dalle vetrate e tutto si combinano in un unico mood, in un unico environment. L'ambiente circostante è come se entrasse all'interno della barca e al contempo la barca si fondesse con l'esterno, quindi questo è dato da defraimentazione dei volumi e di ambienti che compenetrano uno con l'altro.